Salve a tutti, bentornati sul canale di Prizio Siamo tornati dopo diverso tempo su Pokémon Scarlatto Eccoci qui E niente, bando alle cianciazze Siamo nella simpaticissima città di Misturia L'abbiamo raggiunta per sfidare il carissimo Capo Palestrios Che è da queste parti Ciurros, ciurros, vediamo Ciao, benvenuto al ritorno del fuciurro La ciurreria che se la provi una volta Ci ritorni di si, ciurro Perfetto, te li puoi tenere i tuoi ciurros Io direi di fare un giro per Misturia Vedere un po' che si dice per le vie di questa città Con un po' di coloni in giro Una piccantissima specialità Una città Cos'è lì sopra? Allora, noi intanto siamo andati un bel po' avanti Su Scarlatto Abbiamo fatto qualche altra palestra Abbiamo sconfitto quasi tutti i Pokémon dominanti Quindi abbiamo recuperato tutte le alghe principali Per potenziare il nostro Coraidon Ci manca soltanto l'ultima alga Quella che ci permetterà di acquisire il potere Della scalata Ok, questa è la palestra di Misturia Vediamo un po' cosa Quale sfida dovremo affrontare Per arrivare al capo palestra Ok Eccoci qui I bambini che giocano con un azzurril Nora Ho visto che stavi per entrare in palestra E sono a corsa qui Scusa ancora se non ho potuto lottare con te la volta scorsa Nessun problema Cerchiamo di non lottare mai Cosa? Ah, non fraintendermi Non ti ho inseguita fino a qui per fare una lotta Però in effetti Visto che ci siamo Perché no? Ci facciamo una lotticina? Oh no D'accordo Così voi ragazzi vedete anche un pochino la squadra Come è andata avanti Aspetta però Vorrei lottare con i Pokémon più adatti ad affrontarti Scusa, ti dispiace darmi un attimo che vi riorganizzo la squadra? Nel frattempo tu va pure a sfidare la palestra Ci vediamo dopo Ah ok, quindi niente Allora, vediamo qual è la sfida Benvenuta alla palestra di Misturia Lascia che inserisca il tuo nome nel registro degli sfidanti Ti chiami Nora, giusto? Yes Per affrontare il capopalestra Ubaldo dovrai superare l'esame della palestra E l'esame della palestra di Misturia è Ordinare un menù segreto Per essere promossa dovrai ordinare il menù segreto di un famoso ristorante della città Loro in bocca Ci sono altri tre sfidanti in giro per la città oltre a te Ciascun partecipante conosce un indizio diverso sul menù segreto Gli sfidanti dovranno lottare tra di loro e chi perde dovrà rivelare il proprio indizio a chi vince Basandosi sugli indizi ottenuti Bisognerà poi andare all'oro in bocca e ordinare i piatti Del menù segreto Solo il primo sfidante che riuscirà a ordinare sarà promosso Allora Nora, il tuo indizio è Ai clienti abituali piace così Chiedi a qualche cliente abituale dell'oro in bocca Potresti scoprire qualcosa Cerca indizi sul menù D'accordo Ok, dobbiamo uscire Su questo non ci piove No, 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 non ci piove Ok Cerchiamo gli indizi sul menù Devo ordinare il menù segreto Ecco qui la prima Giovanotta Hai un indizio sul menù segreto? Allora me lo direi dopo che ti avrò sconfitto Questo resta da vedere Chi sei? Tu, vediamo Claudia, studentessa Dove è finito? No, hamster No, 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 no Ci restiamo sotto Vabbè, proviamo Fursering Ci fa male Vai hamster Non è molto più facile Lui invece fa malissimo Proviamo omaggio ai KO Non ho alcuni effetti C'è l'aggressario Aia Non mi direi che c'è addormenta No Allora io direi di cambiare Pokémon per velocizzare Tinkaton Che come vedete Si è evoluto Ho giusto un artellazzo Allora Tinkaton Usiamo Gran Martello Vai Una mossa devastante Forse Rilisa Proponino Tinkaton Usa Schianto E vince Perfetto Sale anche Raichu Doversi rubare gli indizi a vicenda Per superare l'esame della palestra È una vergogna Qual è il tuo indizio Ecco l'indizio che mi hanno dato Tenebre circondate da scale Ma c'è una roba del genere Qui in città Cerchiamo il prossimo Mamozio Dovremmo riconoscere Dovremmo avere un fumettino giallo Senti senti Squatabili sa parlare Potrebbe essere quello Il tizio Non c'è nessuno Che deve fare l'esame della palestra Io Sei una sfidante Presto saprò il tuo indizio Mamma mia Che brutto Barbetto Che ciutto Gino Studente Ok Nel Houston Non ci facciamo niente Houston È un po' deboluccio Allo stato attuale Tra i pokemon Più deboli Che ho Mentre invece Skelledige E Spatra E Pinkadonna Sono fortissimi Infatti Non gli faccio niente La tiraviglia ci farà male Non avevo dubbi Allora Io direi di tirare fuori E Spatra No Non mi addormentare No E Spatra Non ti assopire Non ti assopire Ti voglio bene Minchies No Si assopita E Spatra Accidenti Paralisi Sgottatura Sveglia Svegliamo E Spatra Ok Usa i percrapano Meglio Buon per noi Eh Lo buttiamo giù Adesso Con un altro Psicoraggio Chi perde Deve rivelare Il proprio indizio Giusto 4760 Soldoni L'indizio che hanno dato a me è questo Il verso del pokemon A lato azzurro Ero così preso a cercare di capire queste parole Che non sono riuscito a concentrarmi sull'otto D'accordo Manca l'ultimo D'accordo manca l'ultimo Tizio però Io Prima di Trovarlo Metterei Scheletirgy in cima Andiamo a cercarlo Utilizziamo Croydon Per trovarlo Qui c'è una specie di Anfiteatro Un colon E uno in colon E uno in colon E questo tizio Su bambinetto Una bambina E' ora di sfidare la palestra di Misturia Non c'è problema Stai facendo l'esame della palestra vero? Dimmi il tuo indizio sul menu segreto Dai dai Parte la sfida di Giulia Studentessa Vai scheletirci Anzioni ardente Alla ombra Non ha nessun effetto Ma non è morto Franco sterla Vabbè Non ce ne frega un cacchio Lo spero Palla ombra Non ha alcun effetto Io farei Imbruciatutto Dai Classico Questo ci crea problemi Questo non lo puoi evitare Le ultime parole famose Questo Questo scricciolo Ci crea problemi Ragazzi Canzoni ardente Stai evitando tutto Ma sei in difficoltà signori Ti incapano Tocca a te Mi fa un piccolo sforzo Tinkaton Puoi farci Vabbè Tutta la vita È full vita Ma Tinkaton Non se ne frega proprio Senti Provate i gran martello Provate come di sapere Com'è questo colpo Ti piaciuto? Grident No Continuiamo a lottare Con Tinkaton No È lo scogliattolone Cannon flash Vai No No Non gli facciamo niente Controattacco Fallisce Schianto Accidenti Corpo scontro Non ci fa Un grandissimo danno Del martello Possiamo usarlo? Sì Addio Grident È stato un piacere Giulia Perfetto Quanto sarebbe bello Potersi scambiare gli indizi Come si scambiano i Pokémon Intanto posa 4.760 monete E l'indizio Il mio indizio È un intruso in gelateria E siccome la sconfitta L'indruccia Vado proprio a rinfrescarmi Con un bel gelato Ok E ora Fatto questo Pokémon a tutto gas Fatemi passare Reflesso Ok Allora La palestra È qui Vediamo Devo riportare gli indizi O devo andare al Al locale Questo non mi è ben chiaro Benvenuto alla palestra Di Mestero Che ti spiegano come funziona La palestra Eh sì Allora Ordinare un menù segreto Dove ordinare il menù Da un famoso ristorante Della città Loro in bocca Ci sono altri tre sfidanti In giro per la città Ciascun partecipante Conosce un inizio diverso Luttare tra di loro Quindi se bisogna poi andare Loro in bocca E ordinare i piatti Del menù segreto Ok Ok Dov'è l'oro in bocca? Per quel pallino? Spero di sì Come lo riconosco Loro in bocca Con le scritte In giapponese Cioè con le insegne In giapponese Forse è quello Ma è chiaramente Il locale più grosso Di Mesturia C'è chiaramente Scritto oro in bocca Scusa Koraiton Ma lì sopra vedo qualcosa Riesci per caso a salire? Sì No Buggarsi sì No Riesci anche a salire Koraiton Ma qui Gimmigool Non ne abbiamo incontrati Come mai? Questi Pokestop Non abbiamo incontrato Alcuno Gimmigool Va bene Allora andiamo all'oro in bocca Per di qua per l'oro in bocca Il ristorante più famoso Di tutta Mesturia Chi sta affrontando L'esame della palestra Può ordinare anche il menu segreto Benvenuto all'oro in bocca Se vuoi ordinare Di pure a me Sei qui per l'esame della palestra Giusto? Hai raccolto gli indizi Per il menu segreto Dell'oro in bocca? Odino il menu segreto Dimmi cosa vuoi ordinare Non lo so Il petto di viso grigliare? Non lo so Non è la quale idea Dovano darmi Dovano essere Di qualche sorta di indizio Non lo so Non ci chiamo No grazie Quali sono gli indizi? Non voglio salire in group A core item Vorrei aprire il menu Quindi dovrei Dedurre La ricetta? Allora Abbiamo gironzolato un po' Vediamo un pochino Abbiamo capito Che forse dobbiamo Chiedere in giro Un menu segreto Cioè dobbiamo Parlare con Le persone Non bastano gli indizi Come ci ha detto Il tizio alla palestra Lei è un cliente abituale? Vengo spesso qui Ti stai cimentando Nell'esame della palestra Ti svelo un segreto Una spruzzata di limone Rende qualsiasi piatto straordinario Ok Quindi questo limone potrebbe essere Quello del menu Quindi quattro indizi Quindi per ogni Abbiamo sconfitto tre allenatori Forse dovremo cercare Quattro indizi Ora Valle a riprendere Sti allenatori Allora L'ultima mi pare Giulia Ha detto che se ne andava In gelateria La gelateria lì È dove c'è il grid Il mio indizio È un intruso in gelateria E siccome la sconfitta Mi brucia Vado proprio a rinfrescarmi Con un bel gelato Qui c'è una gelateria Pokémon ha tutto gas Sento che il tuo corpo Ha bisogno di zuccheri gelati C'è un intruso in gelateria Cioè Non un gelato Saluti da canto Di provare una delle nostre famose crepe Ma no Questi sono dolci Molto rinfrescanti Gelati Polpette di riso alla griglia Ok Polpette di riso alla griglia Limone Polpette di riso alla griglia Limone Polpette di riso alla griglia Limone Questa tizia Che aveva detto Questa era Claudia E con i tenebri circondato da scale C'è una roba del genere in città L'anfiteatro Tenebri circondato da scale Ce l'avamo anche passati Tra l'altro In fondo c'è scritto qualcosa Ma si legge a malapena Fuocobomba Ah Fuocobomba Era nelle opzioni di cottura Fuocobomba Polpette alla griglia Limone E poi c'era il tizio Qui a destra Che aveva detto? Mi sono completamente distratto Pensavo andasse in automatico Invece il gioco mi ha fregato Il verso del Pokémon a lato azzurro Verso il Pokémon a lato azzurro Verso il Pokémon a lato azzurro Verso il Pokémon a lato azzurro Senti, senti Sfocobbilli sa parlare Parlare, parlare Quindi Non è adorabile Sa fare anche di meglio Cosa? Meglio 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 Per due Per due 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 persone Andiamo a vedere Stiamo impazzendo Vediamo Proviamo Fetta di limone Fuocobomba Fetta alla griglia Per due Allora Sei qui per l'esame della palestra Hai raccolto gli indizi Allora Ordinazione Vai Ordine al menu segreto Vai Cosa voglio ordinare? Polpetti di riso grigliate Per quante persone? Due Che cottura preferisci? Fuocobomba Fiamma viva Gradisci qualcosa come condimento Limone Polpetti di riso grigliate Per due Fuocobomba con limone In arrivo Ordine ricevuto Ah ha fatto l'animazione Forse giusto Ordine ricevuto Polpetti di riso grigliate Per due Fuocobomba con limone Carina questa sala Fatto? Suppongo sia fatto ragazzi Sì Prima non l'ha fatta Tutta questa animazione Infatti Congratulazioni per aver superato L'esame della palestra Sei ufficialmente ammessa La lotta contro il capo palestra Torna da me Quando sei pronta Per lottare Ok Parla con lo staff Del loro in bocca Va bene Io andrei un attimo Al Pokéstop Andrei a curare Un attimino i miei Pokémon Per rimetterli in sesto Pronti Insomma Giusto per prepararci Alla battaglia Ce n'è giusto uno Qui A fianco Metti in cura i Pokémon Centro Pokémon Vai Fai riposare E speriamo di riuscire a battere Questo tizio Allora io inizierei Come sempre Con i Pokémon più scarsi E mi giocarei Scheletirge Per ultimo Torna pure quando vuoi Ok Quindi metterei No non Coraidon Abbi pazienza Metterei 36 40 40 33 Cominciamo con Klaufva Lo mettiamo In cima Ci sta Andiamo Torniamo Allora in bocca Ok Andiamo Vediamo Ok siamo pronti a lottare Si combatte qui? Ok Ma è questo il tizio? Vuoi sfidare il capo palestra Ubaldo L'impiegato straordinario? Sì In tal caso entra pure nell'arena Signor Ubaldo Tocca a lei Ma chi è il cuoco? Era quello della fetta di limone Oddio che capelli Salve Mi chiamo Ubaldo Sono capo palestra Presso la palestra di mistura Le mie più sentite congratulazioni Per aver superato L'esame di una palestra Qui hanno piatti molto buoni Oltre alle polpette di riso grigliato Ti invito a provarli Come algido lei Signor Ubaldo? Meglio non dilungarci in chiacchiere però La mia superiore potrebbe farmi Un richiamo verbale Procediamo con la lotta Ma certo Quando vuoi Calma Molto tranzollo Il signor Ubaldo Il suo capellino Qui Nel ringraziarti Per la fiducia Accordateci Il sottoscritto Ubaldo Ti assicura la massima disponibilità Dacci la medaglia Ubaldo Si aggiusta il nodo Alla gravatta Parta la sfida di Ubaldo Capo palestra Cosa lancia? Komala Ah Vabbè 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 Vai Klaufl Dopo la pausa pranzo Non sono sfavoribile A una lotta digestiva Ma senza strafare Il Komala avversario È in uno stato Di dormiveglia Cerca di non Addormentarci Spaccaroccia Vai Super efficace Ma Komala Sbadiglio No Non ci ha addormentà Che palle Forse riusciamo a fare Un altro attacco Però Sviglio attacco Sì Vai 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 Spaccaroccia Vai Lo potremmo uccidere Diminuisce Ma si addormenta Klaufl Klaufl si è addormentato Dobbiamo usare un rimedio Assolutamente Assolutamente Un rimedio Antiparalli Si sveglia Vai Vai svegliamo Klaufl Tutti sti Pokémon Mi addormentano Mannaggia Ora ci farà Volta attacco Sviglio attacco Ok Fallisce Ottimo Non so se cambiare attacco Super efficace Vai Spaccaroccia Non osiamo Non osiamo Dobbiamo puntare alla vittoria Super efficace Ria comala avversario Ciao Grande Un po' di gente Sale di livello Doodun Sparse Cambiamo Pokémon Skeletirge Vai Questo fuoco Vai Forse fuoco Ci può aiutare qui Forse Non lo so Avanti Skeletirge Nooo Minchia Il Bermone Le coluzioni Di Dance Persi Ah Devo fare Canzoni Ardenze Sono ideale Infatti Sguardo feroce Nooo Forse Non riuscirò Ad agire Non so Se ci proviamo Lo stesso Mazzarola Brutto colpo Sì ragazzi Ho usato lo stesso Però Dobbiamo curarlo Assolutamente Ok vai Super pulsione Non ti paralizzare Per fortesia C'è un altro Giro A giunta Va bene Attenzione Ardente Non ti paralizzare Nooo Schifoso Maledetto Cacchiarola Famiamo Pokémon Stiamo finendo male Stiamo finendo molto male Abbiamo sbagliato A giocarci Skeletir Subito Lui proprio Vabbè Non c'è bisogno Di strafare Ok Schianto È sufficiente Che ti giochi Ok Skeletir Oggi sarò al 42 Vorrei imparare Gran Voce Vediamo Gran Voce cosa fa Non lo so 90-100 La Gran Voce è di tipo normale No no Lascia stare Vediamo Flagello cosa fa No Oddio Staraptor No Continuo a lottare Gli do subito Una bella botta Meglio questa lotta Che venireò berato Di lavoro dei superiori Come vuoi Non mi dire che evita Gran Martello Perché mi incacchio Indubbiamente sei qualificata per l'elotto Spero di non perderci la faccia Ma su Ubaldo Mettici un po' di brio No? Qui ho dei clienti affamati d'azione Fagli vedere di chi sei capace Ecco li clienti affamati d'azione Che arrivano Inchiata e baffetto Quelli dietro Non andiamo a parlare Mi raccomando Baldo è anche tu ragazzina Metticela tutta Non vi preoccupate Non vi preoccupate La clientela si è espressa Non vi resta che soddisfare la richiesta Parla Arrima Lo faccio Vabbè ora lo terracristallizza Sto vitale in testa qua Il nostro attacco è sempre valido Ora ti mostrerò il potere contrattuale Di un impiegato Con il tuo nulla osta Si intende Cacchio Ma non avevamo noi L'anticipo? Vai Tinkaton Borsa assolutamente Super pozione Assolutamente Ok Ok Usa facciata Usa quello che ti pare Va benissimo Non possiamo terracristallizzarlo? Certo che possiamo Non puoi usare Il gammartello Due volte di fila Ah ho capito Scusami Schianto vai Avrei voluto cristallizzarmi Quello cazzo Ho sbagliato tutto Vabbè forse Mi ha avuto lo stesso Addio Ok Mi hai servito una sconfitta 6480 Ottimo Hai proprio una competenza notevole Sono sopraffatto dallo stupore Avendo perso Ora il dovere di consegnarti la medaglia Che dici? Ci muoviamo? Ma lottare mi ha smesso appetito Mi faresti compagnia a tavola? Andiamoci a mangiare A cosa Perfetto Non sono carini Tutti e due Molto bene ragazzi La detenzione di 5 medaglie Delle palestre Ti consente di catturare Più facilmente i pokemon Consente di catturare Fino a livello 45 Inoltre questi Si atterranno Alle tue indicazioni Non credo che una giovane Autenticamente energica Come te ne abbia bisogno Ma prego Hai ottenuto una MT025 Contiene facciata Ok La cucina qui è molto saporita La trovo ottima Non preoccuparti per il conto Sono un uomo adulto Detto questo Cordiali saluti E mesturia È fatta signori Non mi dire che adesso Arriva la ragazzina Oh oh Congratulazioni per la tua vittoria Capsi mi ha informata Riguardo alla presenza Di un'allenatrice singolare Il mio intuito Mi ha suggerito Che stesse parlando di te E a quanto pare Ci avevo visto giusto Ho visto il tuo ultimo incontro Possiedi un talento Davvero straordinario Se continui la tua scalata Verso il rango campione Con questo impeto Di qui a breve Dovrò invitarti ufficialmente A entrare nella lega po- Nora Ho deciso con quelli Pokémon lottare Eccola Ti ho anche vista lottare Per la medaglia della palestra Non smetti mai di migliorare Tu eh Campionessa Nemi È un piacere Rivederti Eh Nora Che ci fai insieme Alla super capa Super capa Ma in che mondo vivi Ti trovi di fronte Alla super campionessa Lisma È un titolo Che va ben oltre Il già ambitissimo Rango campione Ebbene sì Ho l'onore di ricoprire Tale ruolo In aggiunta a quello Di presidentessa Della lega Pokémon Azz Pensavo fosse troppo impegnata Per trovare il tempo Di visitare le palestre Mi trovo qui Per un'altra faccenda Questa volta Sono venuta a caccia Di giovani permettenti Eh Nora Come fai a essere Già così famosa Beh mi dispiace dirglielo Ma ho già messo io I occhi su di lei Non lascerò che qualcuno Me la porti via Nemmeno la super campionessa Allora aspetterò Il mio turno Ah quasi mi dimenticavo Della nostra promessa Forza Nora Dobbiamo lottare Andiamo subito fuori Su facciamo in fretta Un momento Eh Cosa c'è Gradirei molto Poter assistere anche io Al vostro incontro Va bene Ah 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 Per me va benissimo Anche per te Nora Giusto Devo rispondere davvero Sì o no Vabbè Vi ringrazio Non vedo l'ora Di assistere La vostra sfida Andiamo 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 fuori Testa d'alga Qua Andiamo allora Sì ma siamo noi Che decidiamo Va bene Vediamo un po' Facciamoci sta sfida Con Nemi Vediamo dove ci porta Speriamo non sia Particolarmente Rompibals E che sia una cosa Fattibile Non sia Ok Nora Te lo spiego di nuovo Girando per le varie palestre E ottenendo le medaglie Potrai arrivare al vertice Della carriera di ogni allenatore Sì Alla Lega Pokémon Per la precisione Si trova a nord-est Di Mesapoli Lì vengono incoronati Gli allenatori di rango campione Il titolo riservato I più forti Me l'avete già detto Cento volte Se riuscirai a ottenere Otto medaglie E superare tutti gli esami Affronterai l'esaminatrice Più forte che ci sia E se vincerai Diventerai campionessa Cerca di prepararti Mentalmente Per quel momento E ora sfidiamoci Per puntare Proprio a quell'ambitissimo Un attimo di pazienza I Pokémon di Nora Sembrano ancora Un po' provati Grazie Gura Come se Cara Alisma Ah chiedo scusa Ero così di fretta Che non ci avevo pensato Ma ora Grazie alla super campionessa Siamo pronte per iniziare Concentrati Nora E che sia Un'altra lotta fruttuosa Andiamo Speriamo di non perdere Si comincia? Nemi è cattivissimo Parte la sfida Di Nemi allenatrice Hai capito C'è il Liganrock Vabbè Non lasciarti intimidire Dalla super capa Rilassati E lotta Come sai fare tu Tu fatti i cazzi Tu Beccati Spaccaroccia Perché All'anticipo Lui scusatemi Accidenti Che gran botto Quella mossa Aveva una potenza Pazzesca Commentiamo tutto? Rocciotomba Ok Liganrock Si è morso Io su sta Bella corazza Da granchione Non manco muore La velocità Del Liganrock Diminuisce Vai con un altro Rocciotomba Vai Roccia rapida Si addio Ciao Liganrock Avversario Non ha più energie Addio Che usi? Gumi Vuoi cambiare Pokemon? Eh Non so cosa sia Continuiamo a lottare Cos'è Un Pokemon Derman? Che c'è Gumi? No Non schifo Qua Rocciotomba Va Proviamo Mamma mia Gumi Che brutta figura De merda Che fa Metropulsa Questo ci fa male Non sapevo No 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 Però aumentano Tutti gli attacchi Vediamo Se si sveglia Non so se cambiare Proviamo? Ce la rischiamo? No Se si colpisce da solo Infatti Lo sapevo E' un classico E' così confuso Con questo Va bene Klaup Sei stato Bravissimo Comunque E contro chi lo usa Drago Pulsar? Contro il nulla? Allora Io mi giocherei Mi giocherei Espatra Vai Si coraggio Ok Ciao Gumi Che ti giochi Adesso Pauma Vuoi cambiare Pokémon Elettrico No Continuiamo A lottare Si coraggio Non ci sto Mamma mia Cattiveia Finito? Se strazio Ancora Minus card Ah Ho capito Cambia Pokémon Gli diamo una bella lezione E' il suo Pokémon d'erba Mi pare Vai Tinkaton Ha visto Super K Mi sta mettendo Alle strette Nemi manda in campo Meos card Perfetto Allora Gran martello Innanzitutto E' il momento Della terra cristallizzazione Farò vedere Alla super K Quanto vado Ora ci attacca Prima lei Garantito Vabbè Mettiamoci La terra cristallizzazione Di Nemi Vabbè Mi è arrivato il momento Di fare sul serio Vediamo come te la cavi Contro il miasso Nella manica Vai Attacca Attacca Prestigia fiore Fa male Cacchio Questa ho paura Che faccia Qualcosa di male Dopo Dai con gran martello Dinkaton Quanti sta Ora cristallizziamolo E facciamo Io farei Rischiamocela Con un cannon flash Vai Grande Dinkaton Stigia fiore Stesso attacchio Ok Se l'attacco Fa segno Abbiamo vinto Dai Questo è il suo ultimo Pokémon Questo è il suo starter Vi ha preso con noi Vai con il cannon flash Buttalo giù Tinkaton Non mi delude Mai È stato un piacere Mio scarda Guarda come salgono Scommetto che avrei Sempre più successo Puoi ben dirlo Brava brava Una tale dimostrazione di forza Pur lottando contro una campionessa Splendida lotta È stato un piacere Assistere a un incontro Di tale livello Sono rimasta senza parole Non mi stupisce Che persino la super campionessa Abbia riconosciuto il tuo potenziale Non posso permettermi Di battere la fiacca Lo pensavo dal momento In cui ti ho incontrata Ma ora ne sono certa Nora tu raggiungerai il rango campione Non ci sono dubbi Le prossime palestre Sono tutti così buoni Con me Così altruisti Genuini Di sentimenti Lo penso anche io E vorrei fare un investimento A lungo termine Su di te Accetta questa MT E mettendo una terra scoppio Fine Se il pokemon è terra cristallizzato Attacca con l'energia del suo terra tipo E infligge danni in base all'attacco All'attacco speciale Scegliendo il più alto tra i due Se utilizzi questa mossa Quando il tuo pokemon è terra cristallizzato Si adatterà al suo terra tipo Io e te un giorno ci affronteremo Nella lotta più grandiosa Che si sia mai vista Capito Nora? Per cui mi impegnerò ancora Ancora e ancora di più E se ne va Quelle parole non rivelano solo amicizia Supporto e speranza No Senza ombra di dubbio Nemi crede fermamente Che avrei successo In ogni caso Permettimi di raccompagnarti Fino alla palestra Dove ci siamo incontrate Ma perché? Voglio stare All'aria aperta Voglio stare all'aria aperta Non voglio essere infastidita Ok Tutto a posto ragazzi Palestra fatta Medaglia vinta Mesturia archiviata Mesturia archiviata Archiviatissima Cari signori Va bene Allora io adesso Andrò a fare una curetta E poi continuiamo La nostra avventura Palestra di mesturia Archiviata Io direi di salutarci Proprio davanti Alla simpatica palestra Di mesturia Qui Dove abbiamo Ampiamente dominato E questo è quantico ragazzi Quindi Alla Alla prossima Su Pokémon Scarlatto Un saluto da Nora E dal nostro Espatra Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Al prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti